Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi saluto ovviamente come al solito e prima di iniziare a parlare del nostro argomento di oggi dobbiamo ovviamente dare uno sguardo a chi ce lo passa questo argomento perché vi metto la notizia qui come al solito è OneFootball, link in descrizione, l'app numero uno per il calcio, in generale l'app numero uno per le notizie in generale, quindi andate lì, cliccate sul link e scaricatela. Detto questo ovviamente ragazzi vi devo parlare della faccenda attuale perché nonostante la situazione sociale che stiamo vivendo ha bloccato tutte le situazioni relative alle competizioni, il mercato, le news, le indiscrezioni vanno avanti, corrono come cavalli imbizzarriti. Di conseguenza ovviamente c'è una notizia che riguarda Henry Kane che vi ho già postato qualche giorno fa, ve ne ho già parlato qualche giorno fa ma oggi ve ne parlo in maniera diversa perché secondo il The Sun, come avete visto sullo schermo, Henry Kane avrebbe chiesto ai propri agenti di informarsi sulla disponibilità della Juve di prelevarlo dal Tottenham e di dare precedenza alla Juve per giocare con Cristiano Ronaldo. Perché parlo di interesse? Perché ovviamente non c'è un'offerta, ci sono soltanto dei sondaggi che la Juve sta effettuando. E ci sono anche squadre varie insomma che si stanno informando su Henry Kane, Real, City, United, anche qualche piccolo sondaggio del Barcellona e qualche piccolo sondaggio del Bayern Monaco. C'è un insieme di squadre europee che è su Henry Kane. L'altro giorno e io leggo tutti i commenti che voi fate e anche quando io non mi capita di non rispondere perché evidentemente non ho niente da dire oppure perché mi passa magari sotto il commento e non riesco a rispondere perché in quel momento sto occupato a lavorare. Ma comunque leggo tutti i vostri commenti e nei commenti che io ho letto l'altro giorno mi sembra si sia formato un po' una divisione. Una divisione diciamo, o meglio due divisioni, una divisione che sosteneva che l'arrivo di Henry Kane alla Juventus fosse fantastico, che potesse essere diciamo il nove ideale per le esigenze del gioco e chi invece preferiva un'altra strada, chi invece diceva guarda Matt io a Henry Kane non è che mi piaccia molto, preferisco che arrivi Cardi o preferisco che arrivi Gabriel Jesus o preferisco che arrivi un altro giocatore. Ovviamente ragazzi la visione del calcio di ognuno di noi è diversa quindi a seconda delle situazioni dobbiamo cercare di capire un pochino quello che succede. Vi ho già spiegato in un video che ho pubblicato le caratteristiche di Cardi, Gabriel Jesus, Werner, ve ne abbiamo parlato. Le caratteristiche di Henry Kane io non credo che abbiano bisogno di presentazione, è un centravanti forte fisicamente che tuttavia è bravo anche con i piedi. L'unico problema che ho io con Henry Kane, o meglio l'unica cosa che mi diciamo mi rende un po' perplesso, è la sua condizione fisica. Ormai da un annetto a questa parte Henry Kane in virtù di un infortunio molto pesante che ha subito è calato molto a livello di rendimento. Tutto oggi anche nelle recenti gare non ha giocato se non sbaglio perché giocavano con Alli e Lucas lì davanti. È un giocatore che ha espresso la volontà di andare via dal Tottenham perché non ne può più dell'ambiente Tottenham perché è diventato un po' una polveriera. Voi sapete c'è stato l'esonero di Pochettino, lo staff era contrario, la società ha esonerato Pochettino, ha messo Murigno che non ha ancora legato con l'ambiente. Insomma varie situazioni che ovviamente un campione come Henry Kane, un fuoriclasse come Henry Kane a un certo punto lo intristiscono, lo rendono comunque pesante. Quindi da qui la volontà di cambiare aria. E se c'è secondo lui la Juve c'è anche Cristiano Ronaldo, c'è l'opportunità di giocare col numero uno al mondo e di conseguenza c'è l'opportunità di andare in una squadra che ti può far vincere qualcosa non solo a livello nazionale. E il Tottenham non mi sembra abbia vinto molto, ma anche a livello internazionale perché è vero che la Juventus deve lavorare sull'Europa e tutto quello che vi pare, ma oggettivamente ha più possibilità di vincere in Europa attualmente la Juve che il Tottenham. Che voglio dire è capitato il finale di Champions l'anno scorso con tutto il rispetto per i tifosi del Tottenham, un po' in maniera fortunosa con gol all'ultimo minuto, infortuni degli avversari. Cioè è stata la classica squadra che veramente non sa neanche lei come ci si trovava in finale l'anno scorso. E quindi di conseguenza la situazione deve cambiare per Henry Kane che è un ragazzo giovanissimo, ha 25 anni, quindi vuole cambiare, vuole riuscire a vincere qualcosa di importante e vuole segnare tanti gol e per questo vuole giocare col numero uno, che potrebbe fargli segnare tutti quei gol, ovvero Cristiano Ronaldo. Ovviamente un tridente Ronaldo Kane di bala sarebbe tanta roba. Ragazzi è inutile che andiamo a dire no, Matteo vorrei sì, allora qualsiasi giocatore metti in mezzo a Ronaldo e di bala automaticamente acquisisce valore. Proviamo a fare un po' di paragoni? Quindi Ronaldo Kane di bala, tridente top. Ronaldo e Cardi di bala, tridente top. Ronaldo Gabriel Jesus di bala, tridente top. O chiunque ci metti, se ci vado io a giocare in mezzo, comunque fate un tridente top, voglio dire. Ronaldo e di bala sono due fuoriclasse che riescono ad esaltare il gioco del compagno di reparto, quindi è normale che si debba mirare a qualcosa di più. È vero che con di bala hai velocità e fantasia, con Ronaldo hai potenza e tecnica, ti serve qualcuno che faccia non solo il lavoro sporco, ma che la butti dentro in maniera prepotente. È Enrique in queste caratteristiche che ce le ha. L'unica perplessità per quanto riguarda Enrique è la fisicità, cioè non mi convince la sua condizione fisica. Se avessi la certezza che Enrique sia sano, o meglio, se avessi la certezza proprio della sua sanità dal punto di vista proprio muscolare, allora direi sì, direi Enrique è il giocatore adatto per la Juventus ovviamente. Ragazzi, è difficile, è una valutazione sicuramente molto complicata, perché c'è chi dice no, c'è chi dice sì, però io vi voglio lanciare una domanda, un boomerang, che dovete prendere al volo e provare a rilanciare. Enrique in alla Juve farebbe veramente così male? Perché ho letto di tanta gente che ha detto Matt, ma lui è inglese, gli inglesi in Italia non hanno mai fatto bene, però ragazzi questi discorsi sulla nazionalità, sul non hai mai fatto bene, lasciano un po' il tempo che trovano, se uno è un fenomeno è un fenomeno sempre, inglese, italiano, che giochi in Irlanda, ovunque è un fenomeno. Fatemi sapere nei commenti.